Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie No ne erano in due, erano in due camperati, erano in due camperati Non faccia niente, non faccia niente ragazzi lo devo fare mi raccomando che dice che c'erano però nicolas grazie ma a me mi dispiace che l'ho fatto perdere tutto un pomeriggio ok lei ce l'ha il pump la droppi la corona per non farti vedere quando cambia la safe che hai la corona non ho capito chi mi ha sparato non ho capito chi mi ha sparato a cazzo cazzo fondo rondo diamogli l'invito a nettuno volentieri volentieri ho sbagliato ad entrare ho sbagliato e spero sbagliato ad entrare non è una ballerina una ballerina e fare l'usciere ciao da b grazie campi creato regala un abbonamento vince l'ultima l'ultima cerchiamo di stare concentrati per favore allora signori concentration mentality please biscottino io 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 pietro niente non è niente non è niente non è f quelli prendono troppi milioni al mese ti dico che quando ero nel deserto c'era la zona chill praticamente no quindi c'era questo tendone enorme con dentro anche dei ventilatori adibito proprio perché non potevi camminare nel deserto f non potevi cioè tu uscivi dal camper Se facevi più di due minuti sotto il sole cominciare a sbrattare non sto scherzando No, no, erano 41 gradi di sole piantato in faccia fidati Ottimo questa volta per cazzo Sto salendo in sky io f Ciao della non posso mutarmi grazie dei quattro ciao bello Quattro mesi Va bene matteo Tutto due splash ci provo a farmeli Sì vabbè ma questo se ma questo Ma da dove è uscito ma da dove che è uscito questo Però mi vattene Vediamo quante kill abbiamo fatto Allora Come funziona ragazzi è un nuovissimo concorso che inizia in questi giorni Anzi è già iniziato e che vi permetterà di vincere uno dei quattro biglietti per milan games week Come fare per partecipare semplicissimo vi basta digitare in chat punto esclamativo mister dei dove troverete anche il link per La pagina web dove è presente questo questionario Come vedete iscriviti per partecipare al concorso Degli annaffio i fiori del cazzo Un basato di merda Ma neanche alle grand final che abbiamo visto settimana scorsa Figa Edz uno vicino ragazzi è durato un pochettino il fight Coglione di merda figa bastardo Arrivo eh Ho scritto al manager vediamo cosa dice Magari oh magari parla di chi è che è il gioco di spiderman 2 chi è che l'ha fatto Porco diavolo porco Porco diavolo porco E ragazzi io non riesco figa non sono capace a questo livello figa Pensavo che poi la scala era god figa merda puttana merda Porco cazzo Provo e fargli un bel regalo Non penso voglia fightare Ragazzi parco Sto fottuto puttana di Cazzo di porco Materasso di merda Merda Coglione Come merda La merda non mantiene la parola La merda Come merda Signori Con Questa Orribile Aggiungerei Fine live E Mi dispiace per le persone che hanno Guardato E purtroppo sono state Poi mi fai pure schifo Perché io ti ho graziato ieri mi fai schifo mi fai Spero di non vederti mai quando io sono in giro a fare gli eventi Io l'ho anche L'ho anche L'ho anche graziato ieri Fai schifo fai schifo E' inutile dargli corda Non l'ha fatto è stato bannato Sembra Parco di Adesso non sta fermo Easy 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 Uuuuuu Hohhoho me